Ciao ragazzi, eccoci qua per il video che riguarda il benessere fisico a cui comunque si collega il benessere mentale. Allora, oggi si parla di allenamento funzionale, che è un allenamento che vuol dire tutto e niente. Comunque è una tipologia di allenamento che va ad ammenare appunto delle caratteristiche che possono essere la forza, l'equilibrio, la resistenza e via discorrendo. Va molto di moda. Cos'è che fa la differenza? L'utilizzo corretto dei muscoli posturali, quelli che normalmente non vengono citati, quelli che non si fanno sentire perché appunto tengono le posture, quelli che vi aiutano ad avere degli schemi nuovi, degli schemi motori nuovi o anche già usati, però corretti che nel tempo non vi vadano a creare danni. Perché la prima cosa è rispettare il proprio corpo. Vi aspetto o online o in privato o in palestra, nei corsi di gruppo o in studio. L'allenamento individuale ovviamente è proprio indirizzato ai tuoi bisogni. Ciao!